Un saluto a tutti, soprattutto agli amici di Risto Golf, è sempre un grande piacere, un grande onore partecipare a questo evento, perché è un evento che coinvolge tutte le persone che sono state probabilmente coinvolte anche in maniera particolare, quindi a tutti i bergamaschi, alla voglia di ricominciare, quindi cosa c'è di più entusiasmante che iniziare su un campo da golf con tutti gli amici e un abbraccio a tutti, grazie.